Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come avrete letto dal titolo quest'oggi nuovo super unboxing perché quest'oggi ci saranno degli accessori veramente particolari quest'oggi andrò a fare un unboxing su degli accessori che ho preso per kayak e belly boat in modo da portare delle pescate un pochino più ricche speriamo e in modo da aiutarmi nelle sessioni di pesca dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividetevi, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti se vorreste dei video più dettagliati, magari spiego qualcosa, ditemelo qua sotto nei commenti che ve lo faccio dunque ragazzi superiamo i 100 like per questo video e mi raccomando non fate quello dal bacino corto e quindi direi via con il video a quest'oggi abbiamo due bei pacchi uno più piccolo però pesante e uno più grande pesante partiamo da quello più grande tirando fuori il pezzo grosso pesa ho preso delle nuove pinne per il belly in modo da poter spingere un po' di più battere più posti queste in particolare sono le mares o mares non so come si leggono me le hanno consigliate sono quelle con i laccetti perché ovviamente ho lo stivale e quindi dovevo prendere quelli collacci gialle e nere fortunatamente ho trovato gialle e nere così guardate sono già abbinato e andiamo intanto a staccare c'è un elastico per tenerle sono pesanti però sono veramente grandi con queste dovrei aumentare la propulsione non vedo l'ora infatti di provarle in modo da vedere quanto posso spingere contate che le mie vecchie pinne erano grandi così cioè erano la metà praticamente di pinna quindi adesso ho più superficie una pinna più reattiva in teoria dovrei far chilometri con una pinnata in modo da dire c'hanno già anche una bella inclinazione adesso io non sono un grande intenditore di pinne però è poche volte che ho fatto snorkeling direi che queste dovrebbero andare forti non vedo l'ora di provarle in acqua poi andiamo avanti con gli accessori per il belly boat ecco qua abbiamo l'asta per l'ecoscandaglio della Seven Bus che è presa da il mio amico Fabio Boscolo eccola qua questa ha le cinghe in modo che posso fissare ai tubolari del belly boat è completamente regolabile sia in altetta che a 360 gradi si può utilizzare in due modi con questo tastino rosso si sgancia si può mettere di lato si può mettere di sopra di lato magari dalla parte giusta si possono fare delle belle configurazioni in più questo attacco si è adattato va bene anche sugli attacchi dei porta canne Berkeley se vedete la filettatura è molto simile mano ferma si adatta tranquillamente e quindi si può usare ovunque ho preso questo con l'asta perché questo mi dà la possibilità sia di mettere l'ecoscandaglio sotto sia di avere l'asta cioè il trasluttore sotto sia di avere perché il Seven Bus con i prezzi è un po' non si capisce bene perché tipo se prendete questo senza il braccio con la sonda sotto costa di più di questo tutto completo io questo posso usarlo anche sul kayak volendo posso adattarlo posso prendere un altro pezzo posso prendere un altro insert da attaccare con le vitre eccetera eccetera posso metterlo anche in barca e qua avrete già capito qualcosa immagino andiamo avanti andiamo a prendere la scatola piccola che devo ringraziare gli amici di Bolesena Yachting e soprattutto Stefano che mi ha consigliato ecco qua starete già capendo di più però sono curioso scrivete qua sotto secondo voi l'ultimo pacco cos'è magari il modello preciso batteria Powery Max per alimentare qualsiasi cosa ci puoi alimentare di tutto questa in particolare è la 25 Pix 25 è quella più potente mi l'hanno consigliato hanno detto che è la miglior batteria possibile che si possa montare su un ecoscandaglio e quindi l'ho presa perché mi hanno detto quanto dura può durare due giorni di pesca belly full quindi per quello che voglio fare quest'anno mi servirà molto più c'è carica batteria è già tutto incluso adesso andiamo a vederla perché sono curioso anch'io allora libretto di istruzioni qua abbiamo la batteria piccola pesa piccola pesante questo cavetto è già bello predisposto ad essere impermeabile questa la mettete pure sotto il sellino della bici volendo nel senso ok e non mi do l'ora di andare a provare poi dall'altra parte della scatola posso caricherare batteria e cavetti questa batteria dura due giornate di eco ed è quello che è senza dover restare là a cercare una batteria da uno scooter che forse adatta per il giusto voltaggio eccetera eccetera poi sta vado sul sicuro il caricatore piccolissima con la sua custodia andiamo a vedere che sono curioso ha la sua custodia ricoperta in gomma meglio così diciamo che subito plug and play mettete dentro e andiamo quindi una cosa migliore per me semplice veloce ti semplifica un sacco la vita e ti fa risparmiare un sacco di tempo signori e signori se riesco signori Garmin Striker 7SV quindi come vedete dall'immagine qua ho il side vision che per me sarà molto importante in acqua salata che è dolce mi servirà molto per trovare scalini branchi di pesce strutture varie in modo da magari fare qualche video in più con qualche cattura speriamo andiamo ad aprirlo allora è un tablet cazzo mi do l'ora di montarlo sul bello guardate che roba sono uscito a trovarlo a un buon prezzo rispetto alla concorrenza quindi guardate qua che robetta ok si lo so è uscita la versione nuova però ho risparmiato tipo 150 euro rispetto alla versione nuova mettiamoli via ho preso la batteria allora dobbiamo vedere come si tira su ok qua abbiamo il trasduttore side tv ovvero il 52 quello con il numero 52 e vi ho detto vabbè cavetteria supporto roba fascette cavi cavetti quello che più importa è che mi servirà per cercare le strutture per sapere la temperatura dell'acqua molto importante la profondità eventuali erba strutture quella è la cosa che mi interessava di più e soprattutto per quello ho preso side vision in modo da sondare più acqua possibile e massimizzare gli sforzi e il tempo perché il perché lo capirete più avanti in effetti e adesso vedremo magari non non lo sfrutterò al massimo quest'anno magari il prossimo devo vedere perché quest'anno non riesco a fare molte cose che vorrei però magari il prossimo anno lo sfrutterò ancora di più dunque mi raccomando ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciatemi un commento lasciate un like mi raccomando superiamo i 100 like per questo video se avete qualche domanda fatemela pure e se avete richieste per video che vi mostro qualcosa fatelo pure dunque direi che mi sono già dilungato troppo e quindi direi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti